Ed eccoci con la seconda parte di Res Pubblica Sicilia Chiama Europa. Parliamo di cultura, parliamo di iniziative che da questa primavera, insomma, fino all'estate vedranno Trapani protagonista assieme, certamente con l'ente Luglio musicale trapanese. Ho in studio il consigliere delegato dell'ente, l'avvocato Natale Pietro Fitta, grazie, Pietro Fitta, per essere qui con noi, e il direttore artistico, sempre dell'ente Luglio musicale trapanese, il maestro Walter Roccaro, grazie Roccaro per essere qui con noi. Un cartellone di tutto rispetto che già da questa Pasqua, quindi dal 2 aprile, da domani praticamente, vede appunto iniziare questa 75esima stagione, almeno per quanto riguarda la primavera del Luglio musicale. Iniziamo subito a raccontarvi, sono 1, 2, 3, 4 momenti topici, mi permetto di definirli, si inizia con le sette parole di Cristo sulla croce, maestro Roccaro. Diciamo che il cartellone di aprile è un po' la sintesi di quello che sarà la stagione nella sua interezza, ovvero abbiamo dedicato degli spazi per le opere da camera e non da camera, sia classiche, barocche che contemporanee, è il caso appunto delle sette parole di Cristo sulla croce di Giuseppe Crapisi e dello Stabat Mater di Alessandro Scarlatti. Una parte della programmazione sarà anche dedicata a concerti solistici di importanti rappresentativi musicisti che si esibiranno o in recital come appunto il maestro Saggese o con l'orchestra. E poi appunto l'appuntamento con questa nuova edizione del concorso di Stefano che in realtà quest'anno recupera la sua idea iniziale così come era stata pensata da Francesco Braschi, cioè mettendo a concorso i ruoli di una delle opere che verranno poi presentate nella stagione estiva. In questo caso si tratta del barbiere di Siviglia. Ora questo in sintesi, più nello specifico, le sette parole di Cristo sulla croce rappresentano una forma musicale molto famosa è quella di Franz Josef Haydn, però ce ne sono anche in epoca romantica come quella di Cesar Frank. Noi in realtà presentiamo non la tipica forma musicale delle sette parole di Cristo sulla croce, ma una vera e propria opera da camera perché in realtà partendo dal testo evangelico che appunto è rappresentato dalle sette parole, nella tradizione appunto le sette parole in realtà sono degli aforismi, delle frasi che Gesù Cristo ha detto secondo i Vangeli sulla croce, ma i concetti espressi dal Cristo sulla croce in realtà sono stati recuperati nella loro dimensione assolutamente umana, perché il Cristo sulla croce in realtà rappresenta l'umanità sofferente, ma nello stesso tempo l'umanità che attraverso il passaggio nella sofferenza si riscatta. E quindi l'idea registica di Danilo Coppola è stata appunto quella di creare un'opera da camera, quindi un'opera con voci soliste, coro e orchestra che narrasse questo passaggio dalla dimensione cattolica, cristiana, religiosa a una dimensione estremamente umana, il che non significa sminuire l'aspetto religioso, anzi direi amplificarlo. La musica è di Giuseppe Crapisi, i testi di Lisotta, maestro Crapisi sarà anche il direttore dell'orchestra, regia scene e costumi di Danilo Coppola, una menzione speciale anche al maestro del coro, il maestro Fabio Modica, perché si tratta di un'opera dove il coro ha un rilievo particolare. Un rilievo particolare. Ed è questo diciamo appunto il momento contemporaneo, perché appunto Crapisi è un autore siciliano che dirigerà anche l'orchestra. Questo lo ritroveremo anche nella stagione. Mi piace il fatto che due delle quattro rappresentazioni di aprile, in particolare appunto lo sabbat mater e le sette parole di Cristo sulla croce vengano rappresentate nella chiesa di San Nicola. Quindi c'è anche questo comunione, ancora di più con il religioso. Poi si presta benissimo la chiesa di San Nicola, diciamocelo, per queste rappresentazioni. Assolutamente. È una chiesa di San Nicola, tra virgolette, adattata e trasformata proprio per raccogliere una rappresentazione, quella delle sette parole, che sarà immersiva. Cioè il pubblico arriverà ancora prima dell'inizio dello spettacolo catapultato in una dimensione assolutamente tra il mistico e il suggestivo. Ma adesso non mi fare spoiler, che voglio venirmela a gustare. No, no, però è un invito a partecipare. Con Stabat Mater, invece, recuperiamo una forma appunto che parte dalla sequenza di Jacopone D'Autodi. Lo presentiamo nella versione di Alessandro Scarlatti e vorrei qui trovare anche un trade union con un'altra iniziativa che si sta svolgendo in questi giorni, il concorso internazionale pianistico dedicato all'altro famoso Scarlatti Domenico. È uno Stabat Mater meno eseguito di quello di Pergolesi, a cui il luglio musicale ha dedicato, una versione speciale con, diciamo, questo adattamento e questa restituzione in chiave strettamente scenica, che è stata rappresentata negli ultimi anni. Il concerto del Maestro Saggesi è appunto un concerto chitarristico di un esponente della scuola chitarristica italiana famosa a livello internazionale e poi il concorso di Stefano. Ho detto già qualcosina, adesso stringendo, aggiungo che il concorso mette in palio appunto i ruoli per il barbiere di Siviglia di Rossini, ma sarà un barbiere di Siviglia speciale, perché il maestro Daniele Aggiman, che sarà il direttore dell'orchestra nell'allestimento della prossima estate, mi ha suggerito, mi ha proposto, di fare riferimento non alla versione usualmente rappresentata del barbiere di Siviglia, ma a una versione speciale, quella di Bologna 1816, che ha delle chicche, degli elementi innovativi nella rappresentazione, tanto da accentuare quel carattere di brillantezza, di piacevolezza, di brio e di luccichio scenico nel senso positivo del termine, che già il barbiere ha. E questo rappresenterà per Trapani un aspetto sicuramente attrattivo, perché essendo un'operazione unica, essendo una rappresentazione, una versione poco eseguita, attrarrà sicuramente tutti i rossiniani sparsi in Europa e spero che attragga e piaccia anche. Ce l'auguriamo certamente. Una curiosità, curiosità mia personale, ma volendo anche una proposta. Siccome mi piace tantissimo lo Sabat Mater nella realizzazione, questa di Bregolesi, che abbiamo scenografica e scenica, che è stata appunto ormai proposta da diversi anni, ma è pensabile, che non so, un contenitore dove si possa vedere quasi in loop questa realizzazione, per i turisti, per i trapanesi, non so, uno spazio specifico dove ogni giorno viene tra... Allora, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando e... Sì che è fruibile su YouTube, insomma, è online, si vede, ma... Assolutamente, però uno spazio dedicato, cioè un box che, come dire, vada incontro a una fruizione che si adatta in realtà alle necessità del pubblico, no? Che sia un po' svincolato dal momento, della partecipazione in teatro, è un aspetto su cui ci stiamo lavorando. Un'altra cosa che volevo anticipare, che sarà una modalità anche di pubblicità di tutte le iniziative che verranno via via presentate, è quella appunto di creare uno spazio, probabilmente nella villa, in cui il pubblico potrà entrare e diventare esso stesso parte dell'opera attraverso anche una pubblicità sui canali social. Ma ci fermiamo. Non posso scendere, capisco che ci sta lavorando. Questo sì, spoiler, evitiamo. Avvocato Pietra Fitta, un luglio musicale che ritorna, insomma, diventa sempre più attrattivo, insomma, adesso si fa apprezzare, cioè ci sono media partner importanti, no? Come per esempio la RAI, ho capito, AIRGES, come nasce tutto ciò e come lo traduciamo poi? Beh, sicuramente nasce dall'intuito di delocalizzare, se vogliamo, l'immagine dell'ente luglio musicale, che essendo attrattore di artisti anche di proporzioni internazionali o quantomeno nazionali, a nostro avviso era corretto che avesse una propagazione in termini di comunicazione anche in campo nazionale e abbiamo avviato un progetto importante con l'area comunicazione del nostro ente, dell'ente luglio musicale, con RAI. L'azienda radio televisiva più importante, forse tra le più importanti al mondo, ci ha fornito la possibilità di pubblicizzare sul proprio canale dedicato appunto alla cultura l'immagine e il programma dell'ente luglio musicale. Questo ci fa particolarmente onore e ci dà la misura... Nel senso che vedremo anche le rappresentazioni in onda su RAI Cultura? Allora, su RAI Cultura loro pubblicizzeranno attraverso i loro canali social il nostro programma relativo alla 75esima stagione. Chiaramente questo è un primo step che poi potrebbe portare, laddove si consolidasse ulteriormente il rapporto di collaborazione con RAI Cultura, si può anche pensare di dare luogo a delle trasmissioni dedicate al lente luglio musicale proprio sui canali televisivi della RAI. Ma questo ci dà la misura di quanto l'ente luglio musicale abbia... Già, nel passato la RAI si è procurata di mandare in onda... Assolutamente sì. E conferma chiaramente la fiducia che RAI ripone nei confronti del lente luglio musicale poiché attraverso la pubblicizzazione del nostro cartellone percepiamo la misura e la dimensione del cartellone stesso che proponiamo perché chiaramente RAI prima di avviare collaborazioni di questo genere svolge uno screening accurato per valutare il potenziale del contenuto che sta per pubblicizzare o che pubblicizzerà. Assieme a RAI abbiamo un altro obiettivo importante raggiunto attraverso la collaborazione con Airgest, una delle più importanti aziende di gestione degli aeroporti italiani in particolar modo dell'aeroporto di Trapani. Sarà attraverso i loro canali pubblicizzata la stagione dell'ente luglio musicale non solo attraverso i loro portali online ma attraverso un sistema di diffusione pubblicitaria all'interno dell'aeroporto di Trapani. Saranno installati totem interattivi attraverso i quali verrà pubblicizzata la stagione primaverile, estiva ed autunnale. Ma vedo l'ultima di queste quattro rappresentazioni di aprile c'è appunto il diciottesimo concorso lirico internazionale di Stefano che si dovrà al Teatro Pardo. Teatro Pardo ci sono delle novità mi pare, no? Teatro Pardo sarà presto una delle ulteriori conquiste di questo lavoro complesso dell'ente luglio musicale. Abbiamo, come ho anticipato in conferenza stampa, virgolettando il termine, sfruttato le competenze del direttore artistico maturate al tempo in cui assumeva la funzione di direttore del conservatorio di Trapani affinché la sinergia fra l'ente e il conservatorio si rinsaldasse ulteriormente. Però perché il Teatro Pardo sorge all'interno dei locali in uso al conservatorio era importantissimo che questo rapporto di collaborazione si intensificasse per arrivare alla risoluzione di alcuni temi di natura tecnica che poi ci consentissero l'apertura al pubblico del teatro stesso. Stiamo completando le ultime attività burocratico-tecniche, se vogliamo, per consolidare la parola inizio della stagione all'interno del Teatro Pardo che evidentemente ospiterà in primo luogo il galà del concorso di Stefano e le fasi preparatorie al concorso stesso, quindi le selezioni. Ma potrebbe e dovrà diventare il Teatro dei Trapanesi. Noi ce lo siamo immaginati come un contenitore artistico all'interno del quale artisti trapanesi della provincia possano esprimere la loro arte in un luogo che consente anche una vicinanza fra il pubblico e l'artista che sta esibendosi. Quasi una sorta di promiscuità intima proprio per le dimensioni del teatro, parecchio contenute che consente lo svolgimento di attività in maniera molto vicina fra il pubblico e l'artista o gli artisti che si esibiranno. È una conquista importante perché Trapani è titolare di un teatro che non ha teatro, nel senso che è il teatro della Villa Margherita, è un teatro mobile che nel corso della stagione invernale per ragioni legate al tempo ma anche per ragioni di natura burocratica va smontato e rimontato in occasione della stagione estiva per cui la presenza del teatro pardo e ci auguriamo nel prossimo futuro del teatro Tito Marrone potrebbe consegnare alla città di Trapani due luoghi simbolo dell'arte trapanese. E devo dire una conquista importante perché negli anni il teatro pardo oltre ad essere stato relegato alla funzione di auditorium del conservatorio per diverso tempo è rimasto chiuso proprio per queste difficoltà tecniche. ci siamo un po' rimboccati le maniche, siamo andati a riscoprire vecchi documenti conservati negli archivi dell'ente, abbiamo ripreso in mano il lavoro che altri avevano avviato faticosamente nel passato e abbiamo in qualche modo dato lo sprint finale perché il teatro avesse le carte in regola per tornare a vivere da teatro e non solo più da auditorium. Interessante. C'è un'altra novità, ancora non possiamo darla per definita però mi pare di avere capito che le trattative sono in fase avanzata e questa è una grande novità, se ci riescono davvero dobbiamo fargli complimenti perché l'entrugno musicale trapanese sta provando a utilizzare il Seraino Pulpitta. Sì, questa esperienza che stiamo provando a vivere è nata quasi per caso dal confronto occasionale davanti a un caffè con l'attuale amministratore commissario straordinario il dottor Cicero, il quale tra i vari argomenti trattati mi rappresentava della possibilità di tornare ad utilizzare, a far rivivere quei luoghi che in passato avevano ospitato parecchi trapanesi, molti nostri familiari, amici eccetera anche per ragioni ahimè non particolarmente felici potrebbe diventare invece un luogo che ospita il, se vogliamo, che possa diventare una cittadella dell'arte praticamente la volete fare diventare Sì, perché quel luogo possa trasformarsi anche se vogliamo nella culla dell'arte trapanese e culla proprio nel vero senso del termine perché il nostro obiettivo è quello di trasformarlo laddove riuscissimo a definire le trattative che al momento abbiamo in corso in una struttura ricettiva che possa ospitare gli artisti che provengono da altre località diverse da Trapa. Guardo giustamente tutti e due gli ospiti, avvocato Pietrafitta giustamente è molto compassato nello spiegare questo passaggio però vedevo l'illuminazione negli occhi del maestro Roccarlo Iberto E allora? E' un sogno che però può diventare insomma realtà Fatemi sognare, lui non ci è riuscito Vediamo cosa può diventare Beh, allora avere uno spazio che possa ospitare laboratori quindi dare una casa ai momenti creativi che sono dietro il lavoro di un teatro e che sono non solo necessari ma diventano spesso il volano di esperienze che poi in realtà fanno la differenza sulla qualità della proposta sul livello della realizzazione Quindi non parliamo di un mero dormitorio diciamo così No, lì lo facciamo diventare davvero un... Non solo, diciamo che si potrebbe come dire coniugare sia gli aspetti strettamente artistici con quelli più pratici come appunto quelli di creare degli spazi di accoglienza per gli artisti che vengono da fuori per gli artisti del coro, per i cantanti E' diciamo una dimensione anche, come dire che guarda alla valorizzazione dei giovani perché chiaramente un ambiente che sia così un po' svincolato, no? Dalle cornici dell'hotellerie e invece faccia, come dire faccia sì che la giornata di 24 ore sia vissuta in senso artistico in maniera totale C'è un festival voluto da un grandissimo pianista che ormai ci ha lasciato che è Rudolf Serkin e che si tiene a Malboro che in realtà è un festival dove tutti gli artisti convivono in una dimensione che non è solo quella della produzione musicale della preparazione dei concerti ma proprio della vita Quindi ci sono questi grandi musicisti direttori d'orchestra, cantanti che collaborano nella preparazione dei pasti nel lavare le stoviglie E' una cosa veramente bella Io, insomma, per la fitta dobbiamo portarla a termine a compimento questa cosa Ci stiamo provando Davvero, lo vedo insomma, diventerebbe una specie di tempio proprio dell'arte Sì, in realtà vorremmo trasformarlo in quello Abbiamo, come dicevo delle trattative in corso per cui non preferisco Mi rendo conto Io che sono a Monello vi devo fare dire le cose Mantenermi, come dire cauto nell'esposizione del progetto però sicuramente è un progetto ambizioso Abbiamo già incontrato il commissario in un paio di occasioni Abbiamo una fortissima intesa sul progetto e stiamo consolidando chiaramente come dire, i punti salienti che sono quelli, ahimè che attengono agli argomenti tecnici per instaurare questo rapporto di collaborazione Chiaramente, come molti di voi sapranno, il Serno Volpit è una struttura di natura regionale e di proprietà della regione siciliana per cui bisogna instaurare una trattativa fra enti pubblici che chiaramente richiede dei requisiti e dei tempi che sono diversi rispetto alla trattativa fra pubblici Allora, siamo qua Ma siamo in itinera Intanto, grazie per questa possibilità poi, ripeto, dai sogni Se non c'è un sogno non si può realizzare Non possiamo fare adoperarci per farli avverare Abbiamo pochi minuti Come chiudiamo? Chiudiamo Scegliete voi Io mi ero segnato diversi argomenti l'Art Bonus, per esempio del concorso di Stefano abbiamo in qualche maniera parlato Sì, sull'Art Bonus se il direttore mi consente anche lì è una piccola ma via via immagino diventerà grande conquista del teatro Abbiamo attraverso l'Art Bonus già coinvolto alcune aziende del territorio trapanese delle quali chiaramente non sveliamo al momento l'identità ma solo perché anche lì È un parco proprio un parco di informazioni Stiamo ancora definendo gli ultimi accordi L'invito è quello chiaramente di voler bene al teatro alle aziende del territorio Trapani è una città che non vive vive prevalentemente di terziario ma ci sono aziende importanti che hanno fatto grande la storia se vogliamo mercantile trapanese per cui chi vuole bene a Trapani chi vuole bene al teatro chi vuole bene alla cultura che investa sulla cultura che investa sul teatro sicuramente ne trarrà un beneficio via da di natura se vogliamo fiscale per quello che l'Art Bonus comporta vuoi anche dal punto di vista della programmazione di questa città cioè contribuire alla programmazione artistica di questa città sicuramente è un ritorno che farà bene anche a chi sceglie di investire sul teatro va bene chiudiamo abbiamo detto che domenica giorno 2 aprile ma anche lunedì sera il 3 alla chiesa di San Nicola la prima primaverile proprio del mese di aprile della 75esima stagione con le sette parole di Cristo sulla croce non abbiamo detto quanto costa se costa sì certo c'è un costo d'ingresso che è pubblicizzato sul sito dell'ente luglio musicale i costi variano a seconda della poltrona che si sceglie è un costo variabile che si aggira dai 10 ai 15 euro per produzione chiaramente i dettagli poi li troverete sul sito in relazione chiaramente alla poltrona che si sceglie e al tipo di produzione che si sceglie ci rivediamo maestro Roccaro va bene intanto si dice no non vi offendete ma in termini artistici ci si augura così buona fortuna tanta merda no quindi beh calpestiamo alla fine in fondo grazie all'avvocato Natale Pietrafitta consigliere delegato dell'interludio musicale trapanese grazie al maestro Abatter Roccaro direttore artistico dell'ente luglio musicale trapanese davvero ci vediamo ci vediamo ci vediamo in teatro ci vediamo in teatro grazie a tutti grazie a tutti